Per venire incontro alle esigenze dei cittadini per il servizio di parcheggio a pagamento è previsto che dal 15 maggio e 15 settembre, quindi in corrispondenza del periodo di sosta estivo, la Girona Patrimonio ha implementato la modalità di pagamento. Oltre alle monete nei parchimetri sarà possibile attraverso un'applicazione da smartphone sia Apple che Android pagare attraverso questa applicazione il pagamento. Sarà anche possibile fare dei pagamenti per la sosta settimanale, mensile e stagionale, questo attraverso i parchimetri. Fra breve troverete sul sito, diciamo dalla prossima settimana, un link di riferimento all'applicazione e quindi alle modalità di funzionalità del servizio e come scaricarlo.